ecco questo è uno dei post che ho pubblicato ieri sera su instagram parla della fine del mondo infetti l'articolo dice la fine del mondo è vicina la scioccante scoperta dei licenziati e sotto le due righe che scrivo solo i fatti potranno dare la certezza se ci sarà la fine del mondo e se ci sarà sarà anche l'ultima cosa che vedremo ecco qua sul post successivo sempre sullo stesso argomento l'articolo riferisce qualcosa di pauroso sta succedendo alla terra dobbiamo prepararci al peggio questo l'allarme dello scienziato ecco questo il famoso scienziato uno dei 22 tra i primi 22 scienziati più famosi al mondo che ha lanciato un allarme perché l'umanità si prepari al peggio ma poi leggeremo anche l'articolo sì perché lo scienziato di prima fa riferimento soprattutto alle situazioni a ciò che sta accadendo sulla terra negli ultimi mesi negli ultimi anni infetti questa è la famosa tempesta di sabbia di qualche giorno fa di 500 chilometri che oscura l'australia in effetti sulle due righe sopra ho scritto sempre più grandi le tempeste di sabbia quasi come se volessero seppellire il mondo ecco questo è uno di quegli articoli di quei video che ho fatto o più di uno che evidenziavo come queste anomale tempeste di sabbia che stanno colpendo parti del mondo mai raggiunte prima da esse quasi come se volessero seppellirlo e spiegavo poi il significato ma andiamo avanti si riprendendo ancora un articolo importantissimo con la traduzione in inglese dell'allerta lanciata di scienziati appunto britannici su quello che potrebbe essere l'imminente tempesta solare che spegnerebbe distruggerebbe questo mondo tecnologico e anche loro lanciano un allarme ecco un po' tutti i scienziati lanciano un allarme per un motivo o per l'altro di qualcosa che sta arrivando di imminente è un po' quasi come se fosse la conferma delle interpretazioni di tutti i segni premonitori avvenuti negli ultimi sette anni che io ho fatto su questo canale con decine e decine e centinaia di video sì adesso anche loro lo confermano e hanno paura sì è un po' come l'anomania del sole che si sta risvegliando come l'hanno pubblicato ieri e l'altro ieri sui vari giornali ecco il sole si sta risvegliando è all'alba del nuovo ciclo scienze tecniche ma non doveva forza addormentarsi infatti nelle quattro righe che scrivo sopra prima di pubblicare sui social dico dal 2005 dicevano che il sole si stava spegnendo e iniziava la miniera glaciale oggi dicono che il sole si sta risvegliandosi ciò dimostra che nessuno conosce il sole e questo dovrebbe preoccuparci perché il sole stesso segna le sorti del destino della terra come gli stessi scienziati hanno ammesso ieri negli articoli che ho appena fatto vedere impauriti per quello che potrebbe succedere e sta succedendo ecco qua siamo entrati nell'articolo pubblicato ieri qualcosa di pauroso sta succedendo alla terra dobbiamo prepararci al peggio questo allarme dello scienziato Cucu uno dei scienziati americani più famosi del mondo è uno dei pochi scienziati seri che il dottor Cucu è uno dei pochi scienziati seri che non hanno paura di dire la verità nella lista dei più citati nel mondo degli autori accademici il dottor Cucu è classificato al ventiduesimo posto nel prossimo numero su questo giornale National Geographic Society il nuovo articolo di Cucu sarà pubblicato e parlerà di qualcosa di grosso che sta per accadere attenzione a noi tutti esseri umani sul pianeta terra ecco alcuni estratti da questo articolo Mincio Cucu dice ora ogni giorno che passa impariamo delle notizie circa grossi cambiamenti meteo anomalie naturali e cataclismi violenti vi è un aumento dei terremoti nelle regioni in cui non vi erano stati prodotti per secoli neve e raffreddamento anomalo in estate nel paese in cui questo non dovrebbe accadere uragani estremi, tempeste e trombe d'aria in luoghi mai visti prima ogni giorno che passa ogni giorno che passa in questo vengono registrati i record meteorologici anomalie del clima anche le crisi climatiche catastrofiche negli Stati Uniti quest'anno pochi giorni fa il 12 giugno più di 30 tornado hanno colpito in Nebraska e poi la grandine che è caduta aveva le dimensioni di una palla da tennis la gente è spaventata la gente non può capire cosa sta succedendo ma hanno bisogno di abituarsi a questi eventi che saranno sempre maggiori noi tutti dobbiamo abituarci un chiaro segno in fausto che l'approccio di una catastrofe globale sta aumentando ad un ritmo allarmante sebbene le condizioni meteorologiche estreme sono sempre state parte dei cicli climatici della Terra ora possiamo vedere e dire senza mezzi termini che esiste un'anomalia in questi cicli che portano ad una maggiore forza e intensità oltre alla maggior frequenza di tali catastrofi climatiche questo è un chiaro segno in fausto che l'approccio di una catastrofe globale sta aumentando ad un ritmo allarmante il recente rapporto creato dal gruppo internazionale di ricercatori ha presentato in occasione della conferenza di Londra un documento in cui viene dimostrato che è possibile parlare di catastrofici cambiamenti globali che si verificano sulla Terra questo vale per l'attività sismica e il clima e questi cambiamenti veloci sono peggiori per noi esseri umani forse la Terra è influenzata da qualcosa che viene dallo spazio esterno non so cosa sta succedendo ora dichiara Cucu forse la Terra sperimenta l'influenza di qualcosa dallo spazio esterno o qualcosa che ha avuto inizio nella Terra stessa o semplicemente il nostro pianeta è stanco di tutto ciò che facciamo adesso nessuno dei scienziati al mondo sa cosa sta succedendo possiamo solo osservare analizzare e creare un modello che può portare ad un dato teorico approssimativo ma i cambiamenti in atto sono veloci e possiedono un'azione violenta non so cosa succede sulla Terra ma tutti dobbiamo prepararci al peggio dottor Mincio Cucu ecco qua entriamo nell'altro articolo la fine del mondo è vicina la scioccante scoperta degli scienziati nell'ultimo periodo se ne vedono di tutti i colori incendi terremoti uragani catastrofi di tutti i tipi stanno distruggendo il pianeta per questo circola da giorni la notizia di alcune profezie circa la fine del mondo la fine del mondo cattive notizie dal MIT pochi giorni fa uno scienziato del MIT ha dimostrato che gli alieni starebbero cercando di stabilire un contatto con l'umanità ma non è tutto secondo quanto riportato in un articolo sul noto magazine l'apocalisse potrebbe venire molto presto sulla base di alcuni calcoli i scienziati hanno desunto che il mondo dovrebbe finire intorno al 2020 anche se secondo gli studiosi però questa data potrebbe avvicinarsi considerando i terribili effetti del riscaldamento globale il riscaldamento globale porterà all'apocalisse l'apocalisse potrebbe essere vicina tra i problemi che potrebbero portare alla fine del mondo si parla del suo riscaldamento globale dovuto all'inquinamento il tasso di cambiamenti climatici prodotti dal riscaldamento globale è opera dell'uomo è maggiore delle più pessimistiche previsioni entro la fine del secolo il livello del mare in tutto il mondo sarà cresciuto di diversi centimetri sommergendo intere città e metropoli la tropicalizzazione del clima flagellerà interi paesi con fenomeni meteorologici estremi come uragani tornato siccità durature alluvioni e conseguenti stravippamenti di fiumi il riscaldamento globale annienterà intere filiere di coltivazione riducendo la disponibilità mondiale di cibo e provocando frequenti caressie la riduzione delle scorte d'acqua dolce e potabile scatenerà guerre violentissime per il controllo delle fonti d'acqua in aria con scarsa irrigazione come quelle medio orientali favorendo instabilità politica ed esuri di massa la mega eruzione vulcanica altri parlano di una terribile eruzione dei vulcani che potrebbero far collassare la terra questa eruzione mortale è stata definitiva Bernalstow è una parola inglese che identifica una mega eruzione vulcanica e probabilmente più di una eruzione sarebbe talmente potente da gettare ingente quantità di materia nella fascia di atmosfera suborbitale che dopo poco tempo ricadranno a terra oltre che la pioggia di fuoco nelle zone colpite dell'eruzione avremo conseguenze climatiche estreme per via del filtro alla luce solare derivante dalle polveri in orbita e più è grande l'eruzione ed eruzioni copriranno o smetterà di risprendere la nostra stella il sole e qui vediamo il terzo ultimo articolo che riguarda l'allerta sulla tempesta solare l'agenzia governativa inglese mette in guardia contro un blackout su scala mondiale l'agenzia del governo britannico mette in allerta il governo britannico e altri governi mondiali in quanto le tempeste solari imminenti potrebbero spazzare via l'intera infrastruttura elettrica del paese e metà del pianeta le centrali nucleari sono minacciate da un eventuale solar storm potente una tempesta spaziale o tempesta solare potrebbe distruggere l'infrastruttura elettrica mondiale in un colpo solo tutti i componenti elettronici come computer smartphone aeroplane automobili verrebbero distrutti anche in un colpo solo a causa dello shock elettromagnetico come pure le spie peccaminose costose e quindi senza una riserva delle centrali elettriche tutte le centrali nucleari del mondo sono a rischio il tabellode britannico Sudden Time riporta che il British Office sta ora avvertendo i ministri britannici che il paese non è preparato per un tale shock il rapporto che è stato preparato in collaborazione con scienziati del British Atlantic richiede un sistema di allarme rapido in considerazione degli enormi rischi per l'intera infrastruttura un simile evento si è già verificato nel 1859 quando un enorme bagliore solare ha raddoppiato la luminosità della nostra stella centrale per alcuni minuti e l'enorme radiazione elettromagnetica ha causato il sovraccarico delle linee del telegrafo causando incendi in tutta Europa un evento simile seppur di minore intensità nel 1889 ha causato la distruzione di elettroidi nelle province di Quabec in Canada più forte è un bagliore solare più le parti più grandi del mondo saranno direttamente colpite specialmente quelle che si affacciano verso il sole nel momento dell'emissione della tempesta spaziale e poi la situazione diventa critica niente elettricità niente interne e forse diffusione di radiazioni particelle radioattive nelle centrali nucleari danneggiate e questo è il rapporto mandato dall'agenzia inglese al governo britannico tradotto non tradotto c'è una lingua originale un documento estremamente importante e qua nell'altro articolo che segue allarme sciocchi dei scienziati nel 2019 ci sarà una nuova era glaciale come vediamo le cose sono messe molto male e sono i scienziati di ogni parte del mondo che stanno lanciando all'umanità un allarme preoccupante ecco alla fine di questo breve video faccio vedere l'articolo pubblicato l'altro giorno sul giornale che evidenziava come le eruzioni e carezie del 536 dopo Cristo fu l'anno peggiore della storia ecco faccio presente nelle trighe sopra scritto a quanto pare la vita degli uomini sulla terra non è mai stata facile né sicura eppure non hanno mai imparato a usare la testa per viverla bene bisogna aspettare che piova sangue per capire una cosa così semplice a usare la testa a usare la testa Grazie a tutti.